Gli anelli del potere, essenziale in un minuto della quarta puntata Una quarta puntata che veramente mi è piaciuta veramente veramente tanto Soprattutto per il finale che promette essere finalmente si diamo una mossa Erano quattro puntate di preparazione per introdurre i personaggi, per caratterizzarli Ora che comunque la mezzo parte delle persone si sono caratterizzate tutto quanto E' ora di entrare nel vivo dell'azione, quindi mi sa che dalla prossima in poi, dalla quinta Vedremo qualche battaglia contro gli orchi o Sauron o altro E la cosa è molto interessante Ovviamente il tutto non avrà così in fretta Però già il fatto che questa puntata termini con quella sequenza E' stato bellissimo Perché finalmente viene a pensare Cazzo, quattro puntate avete preparato sta roba Adesso si siamo E ora di andare in azione Fantastico Anche questa puntata è stata scritta bene Ci sono pochi dialoghi che non mi sono piaciuti Insomma ragazzi E' una serie che veramente sta andando bene Galadier è sempre in parte E anche tutti gli altri personaggi Veramente veramente hanno dato il loro meglio Dell'interpretazione della recitazione Si vede tantissimo Tutta l'attrice di Galadier che è bravissima Chi dice che Galadier Continua a dirlo Non sia espressiva Io non capisco cosa Cosa Se Non capisco la gente che cosa pensi Della recitazione Perché se uno non capisce che Galadier E' espressiva Non va bene Mi sono affermato come al solito Più di un minuto Però Bene Io vi lasso qui Guardatevi questa puntata E poi magari ne discutiamo meglio nei commenti Se volete fare spoiler Spoiler In privato Mi raccomando Non Spoilerate Perché le altre persone Ancora vede la quarta puntata E noi ci vediamo Alla prossima Video recensione Ciao a tutti Ciao a tutti